Grazie a tutti Anna E tu? Alina Ora voi stasera avete conosciuto per la prima volta Aldo Maranzina, giusto? Che è l'ultramaratoneta che sta percorrendo il Giro d'Italia Cosa ti senti di dirgli? Che è molto bravo e che vada avanti così Tu che l'hai visto proprio bene, anche perché siete alla stessa altezza Siete alti tutti e due, io purtroppo sono molto basso Però piano piano ci arriverò anch'io Cosa puoi dirgli? Che è una bravissima persona e che va davanti sulla sua strada perché è davvero bravo E gli faccio i miei complimenti Ora, se io volessi sapere tu cosa fai nella vita? Mi è stato detto che sei un'attrice Sì, infatti oltre ad essere attrice sono studentessa, studio scienze linguistiche alla cattolica Però la mia passione per il cinema mi ha permesso di essere qua questa sera Quindi ti vedremo presto sui Maxi Schermi? Speriamo, me lo auguro tantissimo, anche se sono stata in certe cose tipo il film di Carlo Vanzina E un spot pubblicitario per McDonald's, però speriamo anche di meglio Come dice anche il nostro Aldo, anche il piccolo passo ti porta sempre lontano Infatti, piano piano si va lontano Ma anche tu sappiamo che sei un'attrice Quasi, dai, è una grande parola Hai già fatto anche tu qualcosa a livello cinematografico e o televisivo? Semplicemente apparizioni e basta, insieme a lei Quindi anche a te ti vedremo prossimamente su qualche grande schermo Speriamo, incrociamo le dita Ora vi chiederai una cortesia Noi abbiamo un saluto che è tutti su con le mani Quando ovviamente salutiamo il nostro Aldo Al mio 3, tutti su con le mani, va bene? 1, 2, 3 per Aldo, tutti su con le mani!